RINA Virtual Assets è una soluzione digitale che consiste in sviluppare una replica virtuale di un asset existente. In oggi questo è un grande investimento, non solo perché gli operatori di navigare i loro planti da ogni locazione e da ogni momento, ma anche perché gli offertano molte funzioni interattive. RINA Virtual Assets può proporzionare data real-time, ma può essere un archivio tecnico per documentazione e può essere un repository per tutti gli dati di inspeccionato. Con NetPower abbiamo sviluppato un ambiente virtuale con la loro plan di città di zero emissioni di città di un'alum fat vet cycle. In questo modello, non solo puoi navigare il ambiente virtuale, ma puoi anche trovare informazioni sull'equipimento e su come funziona il città. RINA Virtual Assets possono essere usati non solo per i risultati di training, ma anche per planare in advance, inspeccate e mantenere attività o per aumentare la vostra strategia commerciale. Per più informazioni, clicca il link nella descrizione. Ciao! 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 Ciao!